Parte da piazza 20 Settembre a Fano il video dell'iniziativa che si è svolta al 1 di maggio promossa dal movimento Impresa Ospitalità. Alle 21 e 30 le partite IVA dell'Oreca hanno spento le luci delle proprie case e i comuni quelle dei luoghi simbolo delle città di tutta Italia. Un segno di protesta contro il governo che non tutela i titolari di bar e ristoranti. Un gesto contro chi prova a metterci in ombra hanno detto gli organizzatori rischiando di farci chiudere per sempre a causa di misure economiche inefficaci. Se fallisce il nostro settore si spegne l'Italia. Intanto la Regione Marche sta lavorando alla bozza delle linee guida per riaprire le attività prima di giugno. Tra le misure previste rientrano gel igienizzanti all'ingresso, dispositivi di protezione per il personale, la prenotazione telefonica e digitale, distanze e sanificazione. Il periodo è veramente uno dei più duri da quando faccio il ristoratore che è più di 20 anni. Siamo veramente in grossa difficoltà. Ci stiamo trovando ad affrontare questo periodo da soli, completamente abbandonati dalle istituzioni sia governative che comunali. Si sente a telegiornali, ai giornali, aiuti, aiuti alle imprese, soldi di qua, soldi di là, ma nella realtà non arriva assolutamente niente. Diciamo che tutto quello che ci chiedono, molte cose sono giustamente da fare, tipo condimenti monouso, che comunque incidono notevolmente perché hanno più o meno il tripo del costo di un condimento normale, di un'uliera, di ottima qualità, quelle che usiamo noi. I plexiglass, il costo dei plexiglass, se prima un plexiglass di due metri costava 100 euro, adesso è raddoppiato anche quello. Tra le linee guida si prevedono anche sistemi digitali di pagamento al tavolo. Comunque ho pagato più di 1000 euro per fare un'app. Sono costi fissi che aumentano e ci vogliono togliere ovviamente la capacità ricettiva, quindi ci vogliono mettere in ginocchio Manuel, titolare di due ristoranti, ci ha spiegato che ha già provveduto a sanificare gli ambienti e ad acquistare tutte le attrezzature e i dispositivi necessari. Le spese maggiori però riguardano le bollette, che nel suo caso ammontano 7-8 mila euro al mese, più l'affitto dei locali di un ristorante e il mutuo per l'altro. Abbiamo chiesto i 25 mila euro, quelli che sembrava che lo Stato dava nell'immediato, come mi sembra quando senti la televisione. Nel giro di 24 ore avrete, passati 15 giorni, non abbiamo ricevuto nemmeno una mail di dire sì è stata approvata, no non è stata approvata, zero totale. Innanzitutto la cosa più importante per i ragazzi, i miei dipendenti, noi abbiamo circa 23 dipendenti, che arrivi immediatamente la cassa integrazione. Sono famiglie che hanno bisogno assolutamente di liquidità per poter mangiare nella quotidianità, questa è la cosa più importante. Per noi come imprese due le cose che ritengo essenziali, dei contributi reali a fondo perduto, reali vuol dire reali, non che chiedi soldi, forse arriveranno, massi, no? E una moratoria fiscale che ci dà la possibilità, entro fine anno, di non pagare assolutamente alcun tipo di tassa. Riaprirete quando sarà possibile e in caso aumenterete i costi? Allora, a riaprire, francamente ci sto pensando seriamente. Noi qua adesso a Biricocco stiamo provando a fare l'asporto a pranzo, il risconto adesso è ancora minimo, però siamo in forza e se potete partire, se ci danno la possibilità di lavorare seriamente possiamo anche metterci in ballo a farlo, se no è meglio aspettare e tenerlo chiuso fino all'anno prossimo, intanto a certe condizioni non si può lavorare.